Bentornati sul canale amici miei, ho visto anche io Batman Caped Crusader, la nuova serie animata dedicata all'uomo pipistrello in dieci puntate che possiamo trovare su Prime Video dal primo agosto del 2024. La stavo aspettando con tantissima curiosità perché amo Batman per di più, sono cresciuto con quella classica degli anni 90 che guardavo da bambino su Italia 1, poi ho collezionato le videocassette in edicola, crescendo ho comprato le varie stagioni dall'America, si trovano facilmente su Amazon e c'è anche l'audio italiano, poi purtroppo non sono tutti gli episodi ma ci accontentiamo perché volendo su internet li troviamo, prima è riuscita su Netflix, poi su Prime, insomma la possiamo vedere senza problemi ma ho visto in questi giorni dove sono in vacanza all'isola d'Elba le puntate centellinandomele perché non volevo spararmele subito anche perché mi sono piaciute tantissimo e quindi mi guardavo due episodi al giorno, a volte tre, sono arrivato alla fine e già non vedo l'ora di vedere la seconda stagione che è stata annunciata. Cosa dire di questa serie che si svolge in una Gotham City degli anni 40 con un Batman alle prime armi, dove in questo paese dilaga la corruzione, dove ci sono le varie bande criminali che si fanno la guerra, dove piano piano Batman inizierà a farsi conoscere e anche a creare una complicità con Gordon che inizialmente non c'era. Ci sono vari personaggi del mondo di Batman che qua sono molto importanti, pensiamo anche al ruolo predominante di Barbara Gordon oppure del personaggio della Montoya, oppure ci sono proprio anche dei personaggi secondari come vedevamo nella serie degli anni 90 che qua tornano ad essere più fondamentali per dire i due poliziotti corrotti che lavorano per Thorne che è il malavitoso che in questa serie sarà importante soprattutto negli ultimi episodi ma non vi voglio rivelare di più. Mi sto riferendo a Bullock e a Fless che sì dovrebbero lavorare per il commissario Gordon ma poi sotto banco fanno degli impicci con i malavitosi di Gotham City e poi ovviamente in tutto questo non possono mancare i celebri famosi nemici dell'uomo pipistrello. Ma non vi voglio nemmeno rivelare chi trovereste all'interno di queste puntate perché il mio consiglio è quello di recuperarvele, di restare coinvolti e intrattenuti e spero che vi succeda come è capitato a me perché a me effettivamente è sembrato di riprovare quel tipo di emozione forte, di divertimento, di coinvolgimento che provavo da bambino quando magari mi svegliavo la domenica mattina e trovavo su Italia 1 la puntata. C'era Hulk, mi ricordo a quei tempi c'era Batman, c'era Piccoli Brividi quindi la mia domenica mattina partiva sempre nel migliore dei modi. C'era la serie su Spider-Man ma io ricordo che Batman lo andavo anche a noleggiare alla videometa che era questo videonoleggio vicino a casa mia e andavo con la mia biciclettina e prendevo i cartoni animati di Batman. È una serie questa che omaggia molto quella degli anni 90, sia a livello grafico, animato. Poi l'aspetto noir qua primeggia ma anche la crescita del personaggio, si vuol parlare di corruzione e lo si fa comunque mostrando anche delle scene più esplicite. Ci sono vari momenti di colluttazione fra bande, ci sono varie scene dove anche la cattiveria predomina quindi la possiamo considerare una serie adulta ma dove comunque non mancano tutti quei riferimenti sia estetici ma anche proprio a livello di citazioni a tutto il mondo di Batman inteso come fumettistico, inteso come cinematografico, inteso come anche animato. Quindi io sono rimasto totalmente coinvolto. È una serie poi dove le puntate dalla durata circa di 25 minuti l'una volano. Io arrivavo alla fine proprio come una patatina che una tira l'altra, volevo subito vederne una prossima perché restavo catturato. Mi è piaciuto proprio anche questo aspetto così oscuro e tetro alla base fotografico, la sigla dove tutto viene desaturato. Mi è piaciuto questo Batman investigativo che ricorda un po' il Batman dell'ultimo film di Matt Reeves dove se vogliamo anche lì avevamo un Gordon nero interpretato da Jeffrey Wright. Poi si alternano vari registi dietro la macchina da presa di Batman Caped Crusader, giustiziere mascherato perché abbiamo Cristina Sotta, abbiamo Christopher Barclay e Matt Peters e secondo me fanno un buonissimo lavoro. Per dire, fra Batman Caped Crusader e X-Men 97 ho preferito Batman Caped Crusader perché X-Men 97 era partita come serie benissimo e poi secondo me andava incontro un po' ad alti e basi. Invece con questa nuova serie animata di Batman sono rimasto catturato dall'inizio alla fine e non ho mai percepito un momento di stanca oppure momenti che non mi abbiano convinto al 100%. Ecco, mi piace l'animazione, mi sono piaciute molto le musiche di Frederick Widman così come mi sono piaciuti i personaggi per come sono stati caratterizzati. Sia quelli più conosciuti che tranquilli troverete sia anche quei nemici di Batman che per me che non leggo fumetti che non rivedo da tanto tempo la serie degli anni 90 non conoscevo così bene ma ne parleremo fra un attimo nella parte spoiler. Inizialmente a Bruce Timm, lo storico autore, animatore, sceneggiatore della serie degli anni 90, era stato proposto anche un progetto che avrebbe voluto continuare la serie degli anni 90, quindi fare un seguito di quella serie lì. Però secondo lui, secondo gli altri del team era già stato detto tutto e quindi la cosa più bella era reinventare la figura di Batman rifacendosi da quel che ho letto ai fumetti, quelli che vanno dagli anni 40 agli anni 60 in questa Gotham City degli anni 40 e quindi secondo me l'operazione è assolutamente riuscita, pubblico e critica sono rimasti convinti e colpiti, la seconda stagione è già stata confermata, spero di non dover aspettare troppo perché... ma proprio anche se penso alla figura di Bruce Wayne, se penso all'animazione, se penso a questa anche scenografia minimalista ma che comunica tantissimo, a questa oscurità, a questo buio, cioè mi piace proprio il mondo che han creato attorno a Gotham City, attorno a questi personaggi per una serie che presenta una trama orizzontale, inizialmente può sembrare di vedere un qualcosa di verticale con i vari nemici che spuntano in tutte le puntate, invece no, perché comunque anche quando la puntata è più verticale ci sono sempre quei momenti che poi vanno a ricollegarsi con gli episodi successivi e quindi si imbastisce qualcosa che poi possa continuare e procedere insieme alla narrazione nel corso di tutte le puntate che ancora una volta vi consiglio di recuperare. Quindi il Paolo bambino che è in me ha goduto ma penso che questa serie potrebbe apprezzarla anche un ragazzo di oggi che non ha mai visto quella degli anni 90 e che grazie a questa nuova potrà avere la curiosità di recuperarsela. Vi chiedo di farmi sapere la vostra nella sezione commenti, ricordiamo che fra i produttori esecutivi oltre a Bruce Steen compaiono anche JJ Abrams, Matt Reeves, Ed Brubaker che da quel che ho letto è un personaggio, è insomma un autore molto importante anche per quanto riguarda il Batman fumettistico. Quindi che dire ragazzi, grazie per avermi seguito, spero che la serie sia piaciuta molto pure a voi, non voglio fare spoiler, non voglio dirvi di più, adesso proseguiremo con una parte più rivelatrice però grazie per essere stati qua con me, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale. Se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana, ma ora andiamo con gli spoiler. Ve l'ho già detto, la serie mi ha saputo colpire sin da subito per l'animazione, per le musiche, per la fotografia, per il design, per la caratterizzazione di tutti i personaggi, anche di quelli secondari. Mi poliziotti corrotti di questa Gotham City dove in continuazione queste guerre sono all'ordine del giorno e quindi Bullock, Fless, ma c'è anche Lucius Fox, personaggio che io ricordavo nella trilogia di Christopher Nolan del Cavaliere Oscuro, però il personaggio di Montoya, il personaggio dell'avvocato Barbara Gordon, poi abbiamo James Gordon, insomma personaggi che hanno una propria caratterizzazione accurata e poi mi sono piaciuti anche i nemici che si scelgono di mostrare, perché non ci sono solo quelli arcinoti come il pinguino, Harley Quinn, Harvey Dent, due facce che poi sarà fondamentale in questa serie, Catwoman, ma anche personaggi del mondo di Batman a me meno vicini perché non avendo mai letto un fumetto e non vedendo da tanto la serie degli anni 90, beh, ammetto proprio che alcuni non me li ricordavo per dire Clayface, che quando ho visto ho detto ma questo caspita io lo voglio vedere al cinema, è un personaggio con i controattributi, ma mi è piaciuto anche Firefly, mi è piaciuto anche l'altro fantasma cioè Craddock che dopo essere caduto in disgrazia continuava a rubare anche sotto forma di spettro e secondo me anche la parte sovrannaturale della serie funziona molto bene, ma così come funziona a livello di scene di combattimento, l'aspetto noire predominante, non c'è alcun problema nell'aver reso pinguino una donna, abbiamo avuto mille versioni del pinguino uomo che male c'è nel reinventarlo come donna, un personaggio pittoresco come lui, così cinico, spietato, io proprio non ci vedo alcun problema, anzi il problema ce l'avete voi se per questa cosa deciderete di non guardarvi una serie con i controcoglioni come Batman Caped Crusader. Mi è piaciuto tantissimo anche lo sviluppo della trama orizzontale con Harvey Dent che vorrebbe diventare sindaco di Gotham City ma che poi si lascia sedurre dalla corruzione a bisogno dell'aiuto del malavitoso Thorne, però poi quando Thorne gli dice tu devi fare questo, questo e quello e lui si rifiuta perché vuol far vincere e trionfare la legge e l'onestà viene ovviamente colpito da questo acido in faccia come saprete e quanto è forte quella scena lì, mi ha fatto proprio male, cioè lo schermo va in nero e noi sentiamo le sue urla disperate per il dolore subito e diventerà un due facce che ha un aspetto decisamente spaventoso, ripilante ed è bello vedere come dentro di lui questi due modi di vivere prendano il sopravvento, quindi da un lato abbiamo l'Harvey Dent che continua ad essere quell'uomo tutto d'un pezzo come era prima di venire colpito dall'acido e dall'altro invece prende il sopravvento, questo aspetto istintivo, bestiale, cattivo, spietato, quindi da un lato una vita per il suo lavoro, per la legge, per il popolo di Gotham City, dall'altro lato una vita per la vendetta, per la cattiveria e diciamo che mi è piaciuto anche il pensiero che sul finale si continua a porre Batman perché anche Batman sente di aver dentro di sé quella cattiveria, quella bestialità, quella forza che se mal usata lo porterebbe a diventare un assassino, cosa che in questa serie non vuole essere e mi è piaciuto come Pennyworth che chiamerà Alfred sul finale, mi è piaciuto come gli stia vicino, il rapporto fra i vari personaggi, i legami che si creano e poi se lo guardiamo dal punto di vista dell'intrattenimento questo blocco di dieci puntate uscite tutte assieme purtroppo me le sarei volute godere settimanalmente magari proprio due episodi a settimana però mi è piaciuto anche come questa serie riesca a intrattenere anche la puntata a Luna Park con questa ragazzina che sembra Mercoledì Adams che risucchia l'energia dalle persone, quella con il fantasma, Craddock, ci sono dei momenti che abbracciano delle atmosfere horror con Batman che si trova a dover fronteggiare questo vecchio aristocratico sotto forma di spettro caduto in povertà che ruba ma poi se pensiamo invece alle puntate con i nemici più classici, quella con Catwoman mi è piaciuta molto, anche quella con Harley Quinn, mi è piaciuta la caratterizzazione della dottoressa Quinzel anche prima di truccarsi e diventare l'Harley Quinn che conosciamo, tutte le persone, le sue cavie in queste teche tenute prigioniere, proprio bella come serie l'altra puntata in cui si cerca di uccidere Barbara Gordon, poi se ci pensiamo questa è una serie dove primeggia l'aspetto gangsteristico, criminalistico che a me è molto caro, mi piacciono sempre prodotti di questo tipo. Sul finale, non a caso è un noir, pensiamo a tutte le guerre, le scorribande fra i vari gruppi criminali e poi tutto l'arco narrativo di Harvey Dent, come già vi dicevo, non mi aspettavo che morisse sul finale, mi attendevo che comparisse un Joker, che vediamo un attimo in questa scena prima dei titoli di coda, che sta praticamente facendo degli esperimenti su delle persone che ridono sganasciandosi ma anche morendo, però non mi aspettavo morisse Harvey Dent, credevo che potesse essere un personaggio da sviluppare successivamente, invece no, da quel che sembra, ma è proprio stato secondo me costruito bene il suo sviluppo, anche la scena in cui va a vendicarsi, però poi si pente, sempre con queste scenografie minimaliste, con queste oscurità che avvolgono lo schermo ma anche l'animo del personaggio. Mi è piaciuto Bruce Wayne, mi è piaciuto tanto anche il doppiaggio italiano, ma Bruce Wayne mi è piaciuto. Esteticamente il Batman forse è meno mascellone rispetto a quello degli anni 90, il costume è leggermente diverso e da quel che ho letto si avvicina tanto a quello del fumetto dei tempi, però quanto è bello anche l'omaggio finale quando Batman è sul palazzo e il fulmine lo illumina come nella splendida sigla della serie anni 90 e intanto guarda di fronte a sé Thorne e lì finisce la prima stagione e quindi che dirvi ragazzi? Vi ho già spiegato che i personaggi di Bullock e Fless mi sono piaciuti molto perché sono stati caratterizzati bene all'interno di questa Gotham corrotta dove solo Gordon, Montoya e altri pochi personaggi portano avanti in maniera onesta il proprio lavoro mentre tutto il resto è in mano ai malavitosi. Nella seconda stagione mi aspetto altri personaggi che non abbiamo visto qua, all'appello non erano presenti madre natura per dire, Mr. Freeze, Bane, Killer Croc e tanti altri di Batman e me ne aspetto anche altri meno conosciuti e che potranno soddisfarmi come qua, soprattutto Clayface, quella con Clayface per me dove si parla anche di recitazione, di attori, è la puntata forse più bella di tutta la prima stagione e niente, quindi Batman giustiziere mascherato, veramente una serie splendida, fatemi sapere la vostra, parliamone però, sono contento che Bruce Team non abbia perso lo smalto, la voglia e la necessità di soddisfarci con una serie per grandi e piccini e che sa proprio fare del sano intrattenimento il suo punto di forza ma anche regalarci delle sequenze iconiche e non vedo l'ora di poter proseguire la visione delle successive stagioni, se pensiamo che ai tempi ce ne erano quanti di episodi, 60, 70 per stagione, qua un po' meno, sono cambiati i tempi ma non cambia la mia voglia di abbracciare ancora il mondo supereroistico di Batman e di godere insieme a tutti voi che mi state seguendo qua. Un abbraccione, un salutone da me, da Batman e alla prossima!